Innanzitutto ciao a tutti, ciao Stefano. L'anno scorso esattamente in questo periodo eravamo proprio lì a Roma a presentare i dati dell'osservatorio. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare la collega Stefania Pinna. Qual è il bilancio Stefano, partire proprio da qui, di questo 2022? Allora ciao Giorgia e volevo innanzitutto dare il buongiorno a tutti e ringraziare Federico Bagnoli, Rossi e FAPAV per l'invito. Ci tenevo, anche se non sono riuscito a essere lì con voi a Roma, a portarvi un po' di riflessioni sul tema della pirateria e il giudizio di quest'anno non è positivo. Oggi la pirateria è in crescita ed è in crescita anche la parte dello sport, che è il quarto contenuto dopo film, serie tv e programmi tv, in crescita costante anno su anno e anche nel 2022. Parliamo di circa 41 milioni di atti piratati soltanto nel 2022. E allora partiamo proprio da qui, che impatto sta avendo la pirateria sull'industria sportiva italiana e che soluzioni da zone si auspica vengono prese a livello normativo? L'impatto è significativo perché i dati sempre di FAPAV con Ipsos mostrano una crescita di circa 700 mila nuovi pirati abbonati all'EPTV, quindi un numero considerevole. Parliamo di un fatturato di circa 800 mila euro al giorno, quindi sono numeri significativi che impattano il sistema sportivo italiano e credo sia ancora più evidente che occorre un intervento normativo per fermare la pirateria. C'è un disegno di legge che è stato approvato dalla Camera e adesso è al Senato. Siamo più o meno da circa un paio di mesi in attesa dell'approvazione, quindi parliamo di una cinquantina di milioni, che è il guadagno delle IPTV illegali in questo periodo. E speriamo appunto di avere il tutto prima della nuova stagione che parte appunto a breve. Da un'indagine Ipsos presentata poco fa emerge un profilo di pirata differente rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare. Credi che ormai ci sia una sorta di accettazione sociale nei confronti di questo tipo di reato? I dati sono interessanti perché il profilo del pirata è ben diverso da quello che uno si può aspettare. C'è una maggiore concentrazione nella popolazione laureata e occupata, quindi con un reddito da lavoro. Quindi sostanzialmente è diverso da quello che uno potrebbe immaginare ed è secondo me un fenomeno mai accettato. E questo è abbastanza grave, quindi serve ancora di più intervenire perché c'è un danno per il sistema sportivo italiano e un rischio per le persone. Quindi bisogna fare un intervento normativo per evitare i rischi che le persone incorrono nell'utilizzare questi siti pirata. Poco fa parlavi della necessità di informare sull'utilizzo e i rischi che inevitabilmente si corrono nell'utilizzare contenuti piratati. Credi che possa mancare la consapevolezza che alla base di tutto questo ci siano delle vere e proprie organizzazioni criminali? Secondo me sì, non è chiaro a tutti esattamente quello che stiamo combattendo. In realtà guardando i dati circa il 34% delle persone immagina che dietro la pirateria ci sia quasi una persona che lo fa per hobby in uno scantinato. Ma non è così, sono organizzazioni criminali, quindi è estremamente rischioso fornire i propri dati come password, mail o dati di pagamento. Quindi dobbiamo aumentare il livello di informazione e consapevolezza di quelli che sono i rischi e che dietro c'è un'organizzazione criminale. Con modalità di contrasto più rapide e severe, anche perché le multe che vengono combinate ora non sono così alte in relazione al danno che provocano al sistema, credi che i pirati troverebbero nuove vie legali o si convertirebbero a vie legali? Allora, è centrato le parole chiave, per cui tempestività e severità sono fondamentali. Ad oggi il 49% dei pirati che vengono intercettati, bloccati, come è oscurata la visione, si dichiarano disponibili a sottoscrivere un abbonamento regolare e quindi è soltanto troppo bassa la percentuale di quelli che vengono appunto oscurati. L'intervento normativo in tal senso è fondamentale. La parola da ricordarci è la tempestività e quindi fermarli come previsto dall'attuale norma entro i 30 minuti dalla segnalazione e quindi quando c'è ancora l'evento live. Quindi Stefano, riassumendo i livelli di intervento che non sono più prorogabili, quali sono? Ci sono tre livelli di intervento. Uno legislativo, è stato fatto molto a livello governativo e secondo me, passami la metafora, bisogna mettere la palla in rete e quindi portare a compimento l'iter legislativo prima della nuova stagione. Un secondo tecnologico è mettere sulla piattaforma che consenta, come dicevo prima, la tempestività di intervento entro i 30 minuti dalla segnalazione bloccando l'evento live. E il terzo livello, quello culturale, perché alla fine sono le persone che compiono atti di pirateria che poi sono criminali informatici più che pirati e quindi bisogna assolutamente diffondere maggiore cultura dei rischi che si incorrono commettendo appunto atti di pirateria.